Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento di commenti sugli eventi della pesca e del carp fishing in particolare. Qualche giorno fa, prima di pescare ciò di Vicenza, ho pubblicato una fotografia abbastanza indicativa che ho preso da uno dei tanti siti, in particolare quello di una cooperativa pescatori che agisce sul lago Trasimeno. In questa fotografia vi era una carpa tenuta per le branche, sollevata evidentemente viva, questa era inequivocabile. Quella fotografia ha provocato una serie di reazioni abbastanza dure, abbastanza forti, che posso condividere, ma non è tanto su chi è il contenuto, ma sulla mentalità che questa fotografia sprigiona in modo evidente che voglio porre la nostra attenzione, perché il concetto che il pesce non parla e di conseguenza non ha diritti e è assolutamente consolidato purtroppo nel nostro paese. Tempo fa pubblicai un video che riguardava il mercato esquilino di Roma in cui vieno delle carpe boccheggianti e lanciai la provocazione dicendo immaginate cosa potrebbe accadere se al posto delle carpe boccheggianti mettessimo un agnellino o qualche piccolo animaletto pronto essere macellato, avremmo avuto l'intervento sicuramente come minimo delle leganti di sezione, se non di carabinieri, guardia di finanza, ASL e quant'altro, ovviamente c'è dell'ironia nelle mie parole. Ed è questo che noi dobbiamo cercare di far cambiare nella mentalità delle persone, il pesce è un animale e noi stiamo facendo di tutto per preservarlo e proteggerlo, non così nella maggior parte delle persone, in particolare di coloro che legiferano e quindi nei politici. È vero che proprio in queste ore si sta avvenendo un cambio quasi epocale nel nostro sistema politico, stanno vincendo i due partiti tecnicamente che più si sono avvicinati alle nostre istanze in quanto pescatori, faccio riferimento all'Aumento 5 Stelle, sempre presente a Carpitali e alla Lega anche essa sempre presente a Carpitali ed è referente per tante iniziative che abbiamo portato avanti. Quindi la speranza è che si cominci una collaborazione ancora più stretta a livello politico nazionale per poter portare avanti una serie di istanze che riguardano tutto il mondo della pesca sportiva e ricreativa e non soltanto quella chiaramente di Acqua Interna e anzi. Questo è il primo ospicio. Il secondo è un ricordare che il 13-14-15 aprile, grazie a Valerio Lattarulo, avremo una nuova edizione di un Enduro, una manifestazione che poggia sul centro pesca Turano, gestito in modo incomiabile da Mirko Antonelli, una manifestazione Enduro che si propone di raccogliere dei fondi da donare alla Croce Rossa di Carsoli attraverso, se possibile, l'acquisto addirittura di un'ambulanza. Sostenere questo genere di manifestazioni non milita tutto ciò che facciamo è un momento molto importante. Ognuno di noi deve mettere la sua parte e contribuire affinché queste manifestazioni abbiano successo. Ancora più questa, che serve a ricordare due nostri carissimi amici che durante il 2017 purtroppo ci hanno lasciato, e parlo di Simone e Rossano, carpisti di lunga data, amici di tutti noi, che vogliamo salutare in questa occasione particolare e lo vogliamo salutare nel migliore dei modi. Quindi ognuno si dia da fare, basta andare sulla pagina Facebook di Valerio Lattarulo per trovare tutte le indicazioni in modo da poter contribuire a questa iniziativa. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo appuntamento editoriale su Carp Online, su Social, come al solito, per parlare di tante diverse problematiche che assillano il nostro mondo. Grazie per la vostra attenzione e ciao alla prossima.